Questi sono due lavori, io poi non ballo d'opera, io ballo ancora di lavoro, per me questo lavoro mi deve portare verso la fine della mia esistenza alla realizzazione dell'opera. Io adesso mi sto preparando a quel grande evento, non sono come gli artisti che appena operano l'opera, io penso che l'artista si prepara durante la sua vita al grande evento, l'opera è tutto l'avvenimento della propria esistenza. Comunque questi lavori sono due lavori, questo è un lavoro dell'85, 84-85 e questo è un lavoro dell'anno scorso, però la rappresentazione è un po' la stessa, la manipolazione della terra in un altro modo, non nel modo dei ceramisti, non nel modo dei vecchi scultori, in un altro modo, in un altro modo differente. In realtà la sfera deriva dal cubo, il cubo è la ragione e la sfera diventa la poesia, il cubo lo esponiamo al vento, il vento lo consuma, il mare consuma il cubo e diventa una sfera. La terra è il percorso che la natura fa sugli elementi così e li trasforma e questo è lo stesso come si chiama, è il mio tentativo di non diventare scultore da grande ma di diventare natura. La terra è il primo elemento che si trova appena viene al mondo così. I bambini, i primi giochi, i primi sogni li fanno con la terra, la mangiano la terra, si sporcano con la terra, si disegnano con la terra, fanno i cerchi per terra e man mano che diventano adulti smettono di occuparsi della terra, anche se poi ci devono tornare per forza alla terra. Col tempo l'atto del lavoro, il maneggiare, il fare come si chiama, è diventato non un'abitudine ma è diventato un altro organo di me stesso, fa parte del mio corpo e del mio mondo così, è il mio respirare, è il mio modo di essere. È un'esigenza reale, non un'abitudine, è un'esigenza, un'esigenza con la quale sto bene e vivo meglio. Non faccio solo sfere o paesaggi di questo tipo, mi occupo delle cose che rappresentano molto l'uomo. Per me la terra è come se fosse un grande corpo umano e noi ne rappresentiamo una parte piccolissima. E io è come se volassi e ogni tanto mi avvicino alla terra e certe cose appaiono nitide. Molte volte durante il volo mi allontano e non si capisce bene. Può essere, non so, questo paesaggio che non si sa così, ma è una parte, è un particolare della terra. E la terra è un particolare del corpo dell'infinito, del cosmo. Perché nel cosmo la possibilità di investigazione è enorme, 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 enorme. Possiamo vivere di rendita per un milione di anni con la fantasia se ci inoltriamo nel cosmo, se invece siamo attaccati alla terra dove stiamo. Non c'è fantasia, non c'è mondo, non c'è sogno, non c'è gioco, non c'è volo, non c'è niente. Ecco, è l'ideale, l'astrazione è l'ideale. L'ideale che può essere, può essere politico, filosofico, poeta. L'importante è avere un ideale. L'ideale cos'è? Uno scopo, una mira. Un percorso. Ecco, io voglio arrivare là. Non lo so se ci arriverò, ma già il fatto che mi riprometto, mi metto in cammino, già va bene questo. Questo dovrebbe essere l'aspirazione, non dell'artista, ma l'aspirazione dell'uomo, di ogni mestiere. Andare oltre, anche se non ce la faremo, tentare. L'aspirazione dell'uomo, di ogni mestiere. L'aspirazione dell'uomo, di ogni mestiere.